Ciao a tutti, bentornati a una mia nuova rassegna stampa. Ringrazio tutti per le domande che mi avete scritto sotto la rassegna stampa precedente e grazie per tutti i vostri commenti. Ricordo a tutti che la prima parte della rassegna riguarda degli articoli presi dai media russi che poi andiamo a analizzare insieme perché mi interessa anche ciò che voi pensate di questi articoli, la vostra opinione. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata alle vostre domande e alle vostre curiosità. Cercherò di rispondere a tutto piano piano, le domande sono tante, voi però continuate così, vi ringrazio tantissimo. Direi quindi di partire subito con le notizie per poi lasciare spazio ad alcune delle vostre domande. Si avvicinano, ormai sono vicinissime le elezioni negli Stati Uniti, però stando alla stampa russa ho cercato veramente a lungo degli articoli dedicati al tema e sono pochi, quindi paradossalmente tutti pensano che da queste elezioni statunitensi dipende dal destino della Russia, addirittura come andranno avanti i rapporti fra Occidente e Russia, eppure come anche secondo Dmitri Medvedev che vedete qui impresso nella fotografia, che cosa ha dichiarato il vice capo del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev? Che le elezioni negli Stati Uniti non cambieranno proprio nulla per la Russia. L'ho trovata una posizione molto interessante che va un po' controcorrente, come vi dicevo. Le dichiarazioni di questo politico io non le condivido, non dico quasi sempre, però spesso non le condivido soprattutto per i toni, per la tensione che utilizza, questi toni molto diretti, bruschi, però effettivamente questa dichiarazione l'ho trovata interessante. Come vi ricordate tutti ormai manca pochissimo alle elezioni statunitensi del 5 novembre, però Medvedev ha espresso questa posizione, non abbiamo nessun motivo per sopravvalutare anche questo appuntamento politico. Per la Russia le elezioni non cambieranno proprio nulla, perché le posizioni dei candidati riflettono completamente il consenso dei due partiti, ovvero la necessità di sconfiggere il nostro paese. Quindi secondo Medvedev, come ha scritto sul suo canale Telegram, non cambierà proprio nulla. Perciò rigiro la domanda a voi, perché secondo me è molto interessante. Siete d'accordo le elezioni statunitensi veramente non cambieranno nulla per la Russia, oppure avranno un peso anche per i rapporti tra Occidente e Russia, Stati Uniti e Russia? Mi interessa, scrivete nei commenti. Andiamo avanti. Questo è un altro dei pochi articoli che ho trovato sull'appuntamento statunitense ormai del 5 novembre, manca veramente poco. L'ex ufficiale della CIA ha previsto nel caso di una vittoria di Trump la sconfitta morale delle forze ucraine. Quindi vediamo che cosa ha detto McGowan, come vi dicevo lui un attivista politico comunque abbastanza importante anche oggi. Dopo la possibile vittoria del candidato Donald Trump verrà spezzato questo spirito morale delle forze armate ucraine e quindi porterà una fuga di massa dal campo di battaglia. Questo l'ha detto e dichiarato il 3 novembre durante un'intervista su YouTube. Quindi secondo lui se Trump dovesse vincere, cito, io non mi aspetto proprio che gli ucraniani potranno ancora resistere a lungo, quindi scapperanno via, si arrenderanno. E allora che cosa serve tutto ciò? La cosa interessante delle sue dichiarazioni, secondo lui anche se dovesse vincere la Kharis, la sconfitta dell'Ucraina nel conflitto non verrà rimandata poi più di tanto. Quindi questo è quanto ha affermato questo politico. Ma la parte più interessante dell'articolo secondo me è la seconda, ovvero dove si parla dell'Unione Europea, che è molto preoccupata invece di una possibile vittoria di Trump. Ci ricordiamo stessa storia di anni fa quando Trump in realtà vinse la fin fine. Quindi proprio per questa paura che arriverà Trump e non appoggerà più i pacchetti di aiuti per l'Ucraina, per Kiev, i pacchetti militari, ha deciso di accelerare e quindi di creare sempre più pacchetti prima di novembre. Questa è la posizione dell'UE. Ha aumentato addirittura le proprie spese militari per la difesa, come voi sapete, dell'industria bellica raggiungendo i livelli della guerra fredda. Quindi noi dobbiamo renderci conto quanto in realtà premere per il peggioramento della guerra sia Bruxelles e non Washington. Quindi ditemi secondo voi perché è così, perché a volere la guerra è più Bruxelles e non gli Stati Uniti. Parliamo di un paese molto particolare che è la Turchia. Che cosa ha dichiarato il capo del Ministero degli Esteri turco che vedete in foto? Questo è un articolo di Erb K. Ha nominato la condizione più importante per raggiungere la pace in Ucraina. Cosa ha detto il capo del Ministero degli Esteri turco? Che la Turchia ha dei rapporti particolari con entrambe le parti del conflitto? Però Lavrov ha espresso la propria perplessità per quanto riguarda la posizione di Ankara in merito a questo tema, cioè il raggiungimento della pace. Vediamo qual è il problema di Lavrov, cosa non lo convince. Il ministro turco ha dichiarato che la soluzione più giusta di questo conflitto andrebbe ricercata proprio nell'ambito dell'integrità territoriale ucraina. Noi abbiamo rapporti buoni e particolari con entrambi le parti ha dichiarato. Noi non ci rifiutiamo di ascoltare tutti. Un amico dice sempre la verità e noi è proprio quello che facciamo. Né Mosca né Kiev vogliono perdere e quindi continueremo a ricercare quei punti di contatto fra di loro, ha detto il ministro. Inoltre la stanchezza da questo conflitto porterà comunque a una svolta finalmente secondo lui nel 2025. Però in che cosa consiste la perplessità di Lavrov? È che questa posizione turca non è molto chiara proprio perché sì Mosca ringrazia per l'impegno nella diplomazia, nella ricerca di un dialogo fra le due parti, però alla fin fine la Turchia fornisce armi ad Ankara. Quindi Mosca ha chiesto a chiare lettere Ankara di non fornire più armi alle forze ucraine perché se no non è proprio chiaro in cosa consista l'intenzione di questo paese. Se da una parte parla di negoziati dall'altra fornisce armi a una delle due parti. Quindi effettivamente qualcosa non torna. Dopodiché una notizia un po' curiosa è quella che in Europa hanno chiuso l'ultimo e l'unico museo dedicato all'Enium. Questo è accaduto in Finlandia nella città di Tamper dove è stato chiuso come vi dicevo l'unico museo dedicato all'Enium nei paesi europei. La storia di questo museo è antica, si tratta di 80 anni aperto nel 46 dalla comunità Finlandia Unione Sovietica. Cosa sorgerà al posto di questo ex museo dedicato all'Enium? Verrà aperto un nuovo museo chiamato Notti, non so come si pronunci giustamente correttamente in finlandese, ad ogni modo sarà dedicato alla storia più generica dei rapporti russo-finlandesi. Ditemi un po' cosa ne pensate. È corretta questa volontà di molti paesi, soprattutto quelli baltici, di cancellare il proprio passato spesso sovietico. Sappiamo demolizioni di statue, di simbologie che appartengono alla storia, che però sono una testimonianza del percorso di un paese. Ditemi un po' voi come commentereste questa moda, dal mio punto di vista un po' pericolosa, però posso sempre sbagliare. E poi parliamo del 4 novembre che in Russia è festa, viene celebrato infatti il giorno dell'unità popolare, ma questa è una festa che è molto antica ed è mutata nel tempo. Come la conoscono oggi i russi è stata adottata e fissata, possiamo dire così, vent'anni fa, però le sue origini sono antichissime. Infatti la festa ricorda anche gli eventi che si sono svolti nel XVII secolo, quando il paese era ovviamente in preda a diverse invasioni, guerre con eserciti stranieri, Mosca era occupata dai polacchi per esempio, quindi vedete le radici sono antichissime. Durante l'Unione Sovietica questa festa veniva celebrata il 7 novembre ed era chiamata come la festa della rivoluzione socialista d'ottobre. Solo nel 2004 poi è mutata nuovamente per essere chiamata e nominata come festa dell'unità dell'unione del popolo. Secondo voi quale festa assomiglia di più a questo giorno che viene celebrato dai russi il 4 novembre? E ora direi di passare alle vostre domande perché erano molte come vedete qui sotto il video della precedente ne ho selezionate alcune ma vi dico la verità risponderò a tutte piano piano anche su YouTube stesso magari sotto la vostra domanda direttamente con un messaggio scritto un video. Quindi ecco mi raccomando leggete controllate anche sotto i video precedenti cercherò veramente di rispondere a tutte le domande però adesso rispondo a quelle che ho selezionato per voi. Vi ringrazio perché erano veramente tante. Un amico ha chiesto qual è la giornata tipo se non la Russia ovviamente è molto grande il paese più esteso al mondo sono tante le tradizioni le culture le etnie però anche un giorno muscovita quali sono le particolarità? Secondo me la giornata dei russi dei muscoviti soprattutto dipende da questo buonissimo funzionamento dei mezzi di trasporto. Dovete sapere che sono molto efficienti sono tanti sono regolari quindi innanzitutto possiamo calcolare tranquillamente il tempo che impieghiamo per raggiungere un determinato posto un appuntamento il proprio lavoro. Praticamente tutti i muscoviti o la maggior parte beve un sacco di caffè e lo beve proprio in città camminando in questi famosi bicchieri di carta. Questo ricordo un po' magari gli Stati Uniti i film americani in Italia si beve al bancone questa è la vera tradizione invece a Mosca devo dire che è più comodo proprio perché la gente ha tante cose da fare si sposta tanto bere il caffè i russi non rinuncerebbero mai a bere il caffè oltre che il tè bevanda più amata ma anche per strada. Mosca è una città che si sveglia un po' più tardi rispetto alle città italiane o le città europee ma i russi i muscoviti lavorano tanto tanto quindi anche nelle redazioni parlo per mia esperienza si lavora fino alla fine si lavora fino a orari serali molto tardivi insomma quindi si esce quando si è terminato tutto il lavoro. I russi i muscoviti vivono senza orari quindi si mangia quando si ha fame si può mangiare anche nel pomeriggio non per forza come in Italia a luna la cena alle sette sette e mezza quindi gli orari sono molto vaghi sono praticamente spalmati in maniera molto creativa e soggettiva a Mosca questa è un'altra differenza molto grande. Come vi dicevo gli orari di lavoro sono molto più lunghi rispetto alle città italiane le banche lavorano tutto il giorno la posta tanti negozi o i parrucchieri le farmacie i ristoranti sono aperti anche 24 ore su 24 i fiorai per esempio quindi vedete Mosca è molto particolare non può essere confrontata a realtà più piccole russe alle campagne alle regioni più lontane dai centri come può essere Mosco San Pietroburgo però la domanda era questa quindi io parlo di ciò che conosco molto bene che amo e che è Mosca quindi una città che vive senza orari una città che non dorme mai dove ognuno può trovare comunque una propria dimensione proprio perché offre offre veramente tanto quindi spero di aver spiegato una giornata tipo la giornata tipo dei russi il fatto che non c'è una giornata tipo è tutto molto soggettivo sono giornate diverse i moscoviti sono sempre in movimento è pieno di proposte culturali concerti eventi ai quali i moscoviti partecipano molto volentieri la vita culturale è molto molto attiva passando un'altra domanda di un altro ascoltatore come è percepita la guerra nelle città per esempio a Mosca se si parla di questo se si può notare io ho sempre detto nei miei reportage effettivamente che si percepisce molto poco io percepisco di più dei discorsi che fa la gente dalle preoccupazioni addirittura in Italia a volte il fatto che ci sia una guerra in Europa a poche ore di aereo da qui in Ucraina e invece quando mi trovo a Mosca è percepita molto meno ma anche questo è un tema da prendere con le pinze perché i parenti delle persone che invece hanno perso la vita in questo conflitto percepiscono troppo bene che cosa significa una guerra chi invece non ha questa non ha dovuto vivere per fortuna questa tragedia nella propria famiglia non percepisce quindi stando a ciò che io vedo in città stando ai discorsi della gente all'umore che c'è abbastanza sollevato e allegro nella capitale non percepisco assolutamente che si tratti di un paese in guerra questo ve lo posso garantire però anche qua dobbiamo fare i giusti distinguo le persone che purtroppo hanno perso i loro cari lo percepiscono anche troppo bene quindi questa era la domanda che però era fatta in due parti l'ascoltatore ha anche chiesto quanto i russi si rendano conto delle vere cause di cosa ci sia dietro questo conflitto che sia un conflitto ben più largo quindi non tra ucraina e russia ovviamente ma tra occidente e russia ebbene proprio in russia rispetto all'italia per le persone è molto chiara sia l'origine di questo conflitto sia che gli attori coinvolti siano molto di più e più grandi che sia una grande guerra che va a coinvolgere tutto il mondo soprattutto l'occidente da una parte e la russia dall'altra i russi sono ben consapevoli di questo sia perché l'informazione ha spiegato questo conflitto per quello che è cioè una guerra che parte da lontano una contrapposizione molto ben più antica rispetto agli ultimi due anni e mezzo quindi si parla di vero e proprio scontro tra occidente e russia però attraverso l'ucraina quindi sul territorio dell'ucraina spero di aver risposto andando avanti un'amica invece ha chiesto che cosa ne penso di una coppia di youtuber che hanno raccontato come dopo 13 anni di vita in russia questa coppia composta da un'italiana e un ragazzo invece russo siano tornati a vivere in italia proprio perché pare che questo ragazzo non voglia trovarsi in russia per paura di dover poi essere mandato al fronte io non mi sento di commentare le scelte personali private degli altri posso dire che da una parte è comprensibile proprio se si tratta di questa volontà di evitare di essere inviati al fronte perché è una scelta totalmente umana la paura di rischiare la propria vita è comprensibile però voglio dire che non è come dire una fuga di massa che possiamo notare dalla russia è tutto molto soggettivo le storie sono molto diverse di tutte le persone e io non mi sento assolutamente di giudicare le scelte degli altri quindi è comprensibile si tratta di scelte individuali che io non mi sento assolutamente di giudicare o di criticare una domanda molto importante è stata fatta su un tema trattato in maniera totalmente diverso in italia e in russia dalla stampa si tratta dei bambini che la stampa italiana descrive come bambini rapiti dalla russia dall'ucraina invece la stampa russa definisce questi bambini evacuati dalle zone pericolose perché si tratta di zone di guerra quindi dal don basso dalle zone dell'ucraina che sono coinvolte in questi scontri militari bellici sono stati evacuati in zone più tranquille dove si può appunto garantire garantire la sicurezza a queste a queste creature dopodiché ovviamente per i medi italiani si tratta di bambini rapiti bambini maltrattati però bisogna sempre essere un po più precisi quindi cercare di capire dove sono andati a vivere questi bambini la maggior parte ha dei parenti in russia quindi sono andati a vivere da zii o nonni in russia dopodiché questi questi bambini vengono sicuramente ridati alle proprie famiglie nel momento in cui questo è oggettivamente possibile sicuro infatti questi questi scambio questo ritorno dei bambini a casa viene garantì garantito dalla russia avviene questo ritorno anche sotto sommediazioni di paesi terzi ovviamente quindi sono di solito tre i paesi che organizzano il ritorno dei bimbi a casa dai genitori quindi dall'ucraina dalla russia e mediati solitamente da un terzo paese questi scambi possono questo ritorno scusate può avvenire presso ambasciate straniere che fanno proprio da mediatore quindi questo è una domanda fondamentale ringrazio l'ascoltatrice perché è giusto fare chiarezza sì ci sono questi bambini che logicamente per la guerra sono stati portati in russia in salvo però sono bambini che poi appena è possibile non appena è possibile tornano a casa io vi ringrazio per tutte le domande spero che la rassegna stampa sia stata interessante attendo quindi i vostri commenti agli articoli che abbiamo trattato insieme attendo anche nuove domande che vi interessano sulla russia ma che non avete mai avuto modo di approfondire quindi grazie mille e alla prossima rassegna stampa ciao Пока-paka.